E lo Scharborasca è in vantaggio al quattordicesimo minuto del secondo tempo, Isolese 0, Scharborasca 1, Bertero sta andando a protestare, anche Chiesa sta protestando e viene espulso, Chiesa colpisce l'arbitro, no, 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 Chiesa non deve fare queste cose del portiere dell'Isolese, anche Tidia colpisce l'arbitro, non si fanno queste cose, non si fanno queste cose.